Qui con Matteo Mondino al calcio incontri premiato come bomber della Union S regionale con 23 gol ti chiedo che stagione è stata, ti sei raddoppiato, ne parlavamo un anno fa ma ti chiedevo qual era l'obiettivo forse riconfermarsi e l'hai fatto Ah sì, diciamo che buonasera innanzitutto sono riuscito a riconfermarmi ad essere mio home qui che fa davvero tanto piacere e ciò è stata una stagione un po' in cui non è stato facile riconfermarsi però alla fine ci siamo riusciti e ci ho messo tutto me stesso e mi sono impegnato davvero molto e devo ringraziare tanto anche davvero il mister e i compagni di calcio, i miei compagni perché grazie a loro comunque non sarei qui e mi hanno aiutato davvero tanto e in questi anni purtroppo adesso cambierò squadra e non giocheremo più insieme probabilmente per sempre e li voglio davvero molto bene e li ringrazio ancora tanto per questi anni passati insieme e sono felicissimo di essere di nuovo qua Certamente, ti chiedo, adesso si prospetta una stagione in prima squadra con il San Sebastiano ti chiedo cosa ti ha portato a scegliere proprio questa piazza e come vedi la stagione che si avvicina? Ma ciò che mi ha fatto il San Sebastiano mi ha fatto davvero subito una bellissima impressione quando ci ho parlato all'inizio e ho valutato le mie scelte e alla fine sono arrivato a decidere di andare al San Sebastiano perché soprattutto per il loro progetto, per la loro filosofia di far crescere comunque i giovani e di puntare sui giovani e comunque di creare anche un bel gruppo per far sì che ci sia un bel ambiente e queste comunque sono le ragioni per cui mi hanno portato a scegliere questa squadra sono molto felice di provare a fare questa esperienza tra i grandi per crescere sia dal punto di vista calcistico ma anche mentale e tutto un po' Visto che la scorsa volta ho portato fortuna, l'obiettivo della stagione è personale? Diciamo che sarà più difficile però voglio provare a crescere come ti ho detto in tutti i punti di vista e questo lo posso fare stando con i grandi perciò voglio provare a ritagliarmi il mio spazio e anche sempre a divertirmi ma allo stesso tempo impegnarmi davvero tanto perché cercherò di dare il massimo sia per la squadra che per me stesso e non vedo comunque l'ora di iniziare Grazie mille Grazie a te